Volevo chiedere a Parigi se si rende conto che l'introduzione della flat tax ad esempio sarà un classico elemento che si scaricherà sulla qualità dei servizi perché diminuiremo il gettito fiscale e lì avremo dei problemi generalizzati Non è vero perché è previsto, lo spiego perché No, volevo far dire al titolare russo Ma la pensione è cruciale di Forza Italia Ma la pensione nello stesso modo No, ma la flat tax a Sant'Agata funziona così che ai redditi più alti a cui si abbassa il... a parte che la progressività c'è col sistema delle trazioni ma insomma sarebbe troppo complicato spiegarlo adesso Ai redditi più alti a cui si abbassa l'aliquota non si garantisce più la sanità gratuitamente quindi affluiranno all'affinanziamento del sistema sanitario sistemi assicurativi e mutualistici facciamo entrare il mercato della sanità e quindi arriva meno più si vengono i ricchi possono pagarsi l'assicurazione e non hanno bisogno di pagarsi la sanità e pagano meno tasse ma si dovranno pagare in parche la sanità così si istituzionalizzerà la sanità di serie A e la sanità di serie B per i poveri e quindi lo istituzionalizziamo lo rendiamo legale posso dire una cosa i poveri muoiano e tutti invece si paghino l'assicurazione a caro prezzo vado da Paolo Russo mi dispiace stare in un paese significa veramente dover contribuire tutti quanti mi permetto di dire sommessamente è già successo altre volte seguendo grazie a tutti